Beh, non soltanto della cristianità, ma anche di tutti quelli che credenti e non valutano il cimitero come un luogo comunque di ricordo, di memoria, di debito, di riconoscenza rispetto a quelli che ci hanno preceduti. È ovvio che per noi cattolici ha un significato maggiore, nel senso che la vita non si ferma qua, ci soffermiamo poco a pensare alla morte, mentre invece dobbiamo farlo con maggiore attenzione, non sciupare la qualità della vita, l'amore per la vita, l'amore per gli altri, perché mentre la morte dipende da noi, questi elementi e questi valori dipendono certamente da noi. È una bella giornata che porta tantissimi cittadini, i miei cittadini, a visitare i cimiteri. Ricordo quando ero ragazzo che fino a quando c'è stata la morte di un mio congiunto, mia madre, ho un po' di paura andare al cimitero, anche quando ero grande. Poi invece appena morta mia madre andavo volentieri al cimitero, sembrava che ci fosse una sorta di spirito che mi conduceva, che dialogava con me, che ho la stessa sensazione, la provano tantissimi altri. Questo è un desiderio dell'oltre e dell'altro, che credo sia importante valutare e sul quale soffermarsi in questo periodo.